Starsi, pallone ancora in gioco, Bosio e Pupi E qua ha fatto benissimo, bravissima Francesca Bosio Veramente molto molto Era da sola Il centrale avversario si trovava su Daniele a muro a zero Essendo in prima linea, ha fatto molto bene con questo pallonetto Spinto ad una mano nel cuore Della